Safegate Pro, igienizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza sempre e ovunque. Visita il nostro sito safegatepro.com Cari amici, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo per questo sabato. L'alta pressione domina sull'Italia, lo farà ancora per poche ore, in quanto in arrivo nuvolosità da nord, a causa di un'irruzione fresca dal nord atlantico che porta qualche piovasco al nord, tante nubi al centro e al sud, però nulla di particolarmente rilevante. In Abruzzo, nel corso di questo sabato, tempo complessivamente stabile e soleggiato al mattino, quindi ancora clima quasi primaverile, poi tra pomeriggio e sera avremo un consistente aumento delle nubi, nubi che però non porteranno precipitazioni. Le temperature abbastanza alte, valori tra i 16 e i 17 gradi alle basse quote e lungo le coste, gradevole anche in Appennino, avremo temperature simili primaverili o tardo primaverili, quindi zero termico piuttosto alto, oltre i 2.500 o 3.000 metri di quota. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Safegate Pro Igenizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza, sempre e ovunque. Visite il nostro sito.